Si avvicina all'esordio di campionato, mancano ormai pochi giorni, si inizia a sentire bene lì la pressione della prima con l'Innapoli? Sicuramente pressione no, perché abbiamo preparato tutto il ritiro, abbiamo lavorato come pazzi, tre settimane di lavoro duro, quindi nessun pressione, andiamo in campo e divertiamoci come abbiamo fatto l'anno scorso. Prosegue la marcia di avvicinamento comunque al torneo, che Pescara in questo momento c'è e quali sono? Volendo fare un gioco di percentuali, qual è la percentuale di preparazione del Pescara oggi? Noi facciamo una partita alla volta, quindi la prima partita c'è il Napoli e poi il Sassuolo fuori, quindi ora cerchiamo di preparare il meglio, a affrontare una squadra forte come il Napoli, poi dopo quello pensiamo a una partita alla volta. Ci saranno ancora delle amichevoli, poi la gara di Coppa, dunque una lenta marcia di avvicinamento verso la partita col Napoli, però si parla in queste ore, in questi giorni anche di mercato, anche voi aspettate ovviamente l'arrivo di qualche giocatore? No, guarda, a noi non è una cosa nostra, quindi noi facciamo lavorare come hanno fatto sempre la società, massima fiducia che qui sono arrivati giocatori importanti, arriveranno ancora giocatori importanti, quindi noi cerchiamo di fare tutto in campo e la società farà quello che deve fare fuori. Ben Ali, grande protagonista l'anno scorso in Serie B, pronto ad essere protagonista anche il prossimo anno in Serie A? Sì, sono pronto, mi sento prontissimo perché ho lavorato tutto l'anno, ho lavorato tutto l'anno con questo ambiente, questi giocatori, il mister, il staff, i tifosi, quindi qui mi sento pronto e non vedo l'ora di sordire in Serie A. Hai voluto fortemente voler restare qui a Pescara? Sì, 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 sicuramente, tutto l'anno ho lavorato tanto come un pazzo per fare quello che potevo fare, far salire Pescara in Serie A, ho fatto il mio massimo perché volevo fare la Serie A con questi colori, era giusto così perché questa società mi ha dato tanta stima, tanta fiducia, quindi è giusto che siamo andati in Serie A insieme.